IFIS ha acquistato nel 2016 i miei debiti del 2011, comunicato attraverso una raccomandata, è caduto in prescrizione, si è stata inviata la raccomandata nel 2016, ha interrotto quindi la prescrizione, il finanziamento purtroppo per lei non è andato in prescrizione, converrà a cercare di trovare comunque un accordo, magari contestando il credito, per evitare che possano fare un'azione legale, ci contatti al link in bio per una consulenza gratuita.